Di fronte al grande fenomeno delle migrazioni, sfida delle società contemporanee, occorre rispondere con la cultura dell'incontro e non con il disinteresse o con la paura. E quanto ribadito dal Papa nel messaggio inviato al seminario sulle migrazioni a città del Messico, alla presenza anche del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Forte l'appello di Papa Francesco per la tutela soprattutto dei minori non accompagnati e in fuga, che più di tutti sono a rischio e che bisogna difendere e preservare. E allora il Papa ha provato a capire come mai, nonostante il grande flusso di migranti nel mondo, questo fenomeno sia visto ancora come un'emergenza o come fatto circostanziato, mentre è oramai un fenomeno caratteristico e che rappresenta la sfida delle nostre società. È un fenomeno che porta con sé grandi promesse, ma anche grandi sofferenze, sottolinea il Papa, violazione dei diritti e atteggiamenti razzisti e xenofobi. Per questo Papa Francesco ha chiesto un cambiamento di atteggiamento da parte di tutti, passando dalla cultura dello scarto, fatta di difesa, paura, disinteresse ed emarginazione, alla cultura dell'incontro, l'unica capace, ribadisce Papa Francesco, di costruire un mondo più giusto e fraterno, un mondo migliore. Il pensiero va quindi alle decine di migliaia di bambini che in condizioni estreme emigrano soli, non accompagnati, per sfuggire alla povertà e alla violenza, dal Centro America e dal Messico verso gli Stati Uniti d'America. Ma anche come sta accadendo, aggiungiamo noi, con i minori provenienti da Siria e Afghanistan che arrivano sulle coste italiane. Un'emergenza umanitaria, la definisce Papa Francesco, in costante aumento, che richiede accoglienza e protezione, non senza però aggiunge politiche di informazione circa i pericoli che comporta un tale viaggio e soprattutto di promozione dello sviluppo nei loro paesi di origine. E infine è necessario, conclude il Santo Padre nel suo messaggio, richiamare l'attenzione di tutta la comunità internazionale affinché possano essere adottate nuove forme di migrazione, legale e sicura.